Dall'aula didattica Grano Salis di Lucca, una ricetta della tradizione toscana rivisitata da chef Federica Continanza, nel segno della sostenibilità, della salute e del benessere. Le patate, i pomodori, il cavolo nero, le mele. Chi sarà il protagonista stavolta? Andiamo dunque alla scoperta della pietanza di oggi. Bentornati qui con noi con nuove ricette. Oggi è venuta a trovarci la nostra amica Franca Severini, fondatrice della casa editrice Zona Franca. Benvenuta. Grazie Federica, è un piacere. Benvenuta nella nostra cucina. Grazie a voi. Allora, vieni pure qui accanto a me. Oggi facciamo una ricettina speciale, facciamo una focaccina con i carciofi, con la curcuma. Poi li decoriamo con varie cosine gustose. Ma nel frattempo, che io inizio a preparare il carciofo, tu parlaci un pochino. Soprattutto io sono curiosa, come mai Zona Franca? Allora, Zona Franca è nata circa 20 anni fa, dopo un viaggio fatto per conoscere la cultura del Sud America, dell'Argentina, dove ho incontrato editori e giornalisti e da cui ho preso ispirazione. Zona Franca non è riferito al mio nome in primis. In realtà Franca vuol dire libera, quindi mi piaceva riportare questa idea di libertà culturale in un ambito di elaborazione artistica e di produzione letteraria, che è quello che poco nota la nostra attività. Quindi abbiamo una serie di collane, appunto, che descrivono la libertà di espressione, a cui insomma teniamo moltissimo. Senti, questa casa di Felice, scusami, è a Lucca. La sede è a Lucca, in centro storico. Abbiamo però spaziato in molti ambiti, con varie collaborazioni a Milano, per esempio, col festival di oliofficina di Luigi Caricato, con cui abbiamo collaborato su diverse pubblicazioni, anche riferite alla cucina, per esempio. Ma poi ti dicevo, ma pubblicate i libri di cucina perché magari facciamo sul pensierino. Guarda, abbiamo fatto delle pubblicazioni molto interessanti. Una di queste si intitola Libero Olio e Libero Stato, che è praticamente il manifesto dell'olio democratico, scritto da Luigi Caricato, con la prefazione di Gualtiero Marchesi. Quindi un grande pensiero, un omaggio al maestro Marchesi, che ho avuto l'onore di poter conoscere. Abbiamo fatto questa pubblicazione insieme, riferita a questa promozione dell'olio, di cui Luigi Caricato è un grande interprete. Vedi, mentre te nomino l'olio, io lo sto usando, perché, guarda, ti spiego, ho appena fatto un carciofo a pezzettini. Non importa metterlo nel limone, tanto adesso non si ossida, perché lo mettiamo subito a cuocere. Lo faccio a pezzettini, perché questo carciofo servirà per l'impasto. Io l'impasto, vedi, l'ho già fatto. Guarda com'è bello questo impasto. Il profumo anche, Federica. L'ha lievitato circa 48 ore, nella lievitazione naturale, e qui all'interno ho messo anche la curcuma e carciofi trifolati. Così sarà ancora più saporito. Magnifico. Senti, ma poi io so che te, insomma, sei un'amante anche della storia, no? Hai varie iniziative, fai grandi cose per questo, per tenerla viva questa... Dalla casa editrice, chiaramente, come succede che spesso in cucina, poi nascono tante cose e tanti progetti. Ora, da qualche anno, a seguito della pubblicazione di cataloghi d'arte, ho iniziato la descrizione, l'organizzazione di eventi d'arte. Ecco, infatti, so che sei anche una manager. Riguardo a questo c'è un ruolo importante, no? Sì, mi piace portare avanti i progetti e concretizzarli, in questo caso nella città di Lucca, dove è stata inaugurata poco tempo fa la mostra Antonio Canova e il neoclassicismo. Bella questa cosa, eh? Bellissima. Senere vive, diciamo, questa importanza della cultura, anche per i giovani dovrebbe essere motivo di spunto, di curiosità. E quando c'è la possibilità di vederli da vicino, certi capolavori non te li dimentichi più. Eh, certo. Infatti, il nostro punto principale, tu hai detto la cosa giustissima, tutti questi eventi sono in primis rivolti alle scolaresche, alle scuole, perché diventino proprio uno scambio... Assolutamente fondamentale. Un dialogo ininterrotto, ecco, quindi siamo molto contenti che le scuole hanno risposto in maniera positiva a questo evento artistico che presenta capolavori assoluti della nostra cultura, della nostra storia. Appunto, a cominciare da Antonio Canova. Appunto, che è lui, insomma, grande scultore, architetto. Poi, Luca, è bellissima, nel senso c'è anche, all'interno avete sempre vivo il centro storico con delle strutture stupende, dei palazzi ancora intatti, insomma... È una cornice esaltante. È perfetta. Diciamo che siamo proprio nell'ambiente perfetto. Sì, questo tema, diciamo, della cultura e della storia dell'arte ci permette anche di legare capolavori di Luca, ma non solo, dell'intera Toscana e dell'Italia, in dialogo con un grande, come è stato Antonio Canova, per riscoprire anche dialoghi magari meno didattici, dove le persone possono trovare le proprie passioni. Che tipi di... intanto metto un lievito, eh, lievito fresco di birra, lo mettiamo a sciogliere. Che tipo di evento organizzate anche per i ragazzi? Avete qualche evento a te? Abbiamo i laboratori. Ah, ecco i laboratori. Sì, le scuole sono molto interessate a far sì che gli studenti siano parte attiva anche di queste esposizioni d'arte, per cui vengono preparati dagli insegnanti prima, in modo che in mostra possono, come dire, trovare anche molti aspetti di interesse. Ok, guarda, allora io ti mostro, te mi ha detto mostra, ora ti fai tutte le parole, poi ti mostro appunto cosa sto facendo. Sto facendo un po' un lievitino, sto sciogliendo il lievito di birra con lo zucchero, zucchero di canna o zucchero come volete. Serve per dare una spinta alle lievitazioni, mentre i nostri calciofi stanno andando, prepariamo il nostro impasto. Ok? Ah, vedi. Ora ti rubo cinque minuti, così spieghiamo ai nostri amici a casa, tanto prenderanno carta e penna e prenderanno tutti gli appunti del caso e spieghiamo appunto come fare questo lievitino. Lievito di birra, sciogliamo un po' di zucchero, lo facciamo stare, di solito ci metto anche un pochino di farina e poi lo lascio in posa. In questo caso abbiamo pochi tempi, poco tempo. Noi sfruttiamo adesso al massimo il tempo che abbiamo. Il carciofo è già cotto, basta trifolato un pochino, deve essere tenerino. Mettiamo la farina a pioggia e facciamo il nostro impastino. Ora io mentre impasto ci metto tutti gli ingredienti, te puoi continuare a parlare di tutto quello che vuoi. Parlaci pure di te. Sì, diciamo è l'arte, è un po' quello che mi connota. Sei giovane, quante cose fai, cioè nel senso... Giovane, grazie. Le porti bene. Sono stata giovane. Ah, le porti bene, dai. Grazie, grazie. Perché insomma è bello sapere che le donne... Sai, l'attività ti mantiene viva. Ti mantiene sempre con l'interesse, no, vivo. È bello sapere, ci sono anche le donne che hanno queste iniziative, ne sto conoscendo diverse in questo programma, donne a capo di certe situazioni che si prendono responsabilità. Di solito abbiamo l'idea anche del manager, dell'uomo, no? Poi c'è bello sapere che adesso anche la donna finalmente si può esprimere in questo. Sai, le iniziative ti portano poi a avere dei risultati, ecco, da portare avanti. E nel mio caso ho anche una parte che porto avanti con la mia famiglia, che è appunto questa attività di Residenza 600, in cui l'arte, anche qui, mi segue, o io seguo questa... Di cosa si tratta questa cosa delle Residenze del 600? È un'attività imprenditoriale, una costola delle attività della mia famiglia, a cui io e mio fratello ci siamo dedicati, valorizzando quello che è un po' l'anima e l'essenza della nostra area, che è quella della Toscana verso il mare e verso la campagna. La Toscana è bella tutta, ma dove ci giriamo, ci giriamo, abbiamo veramente... Siamo fortunati in questo senso. Davvero, tantissimo. E appunto legato alla parte delle attività artistiche, come anche un punto di promozione, perché le persone si avvicinino anche a eventi artistici, ma dove poi possono anche trovare un momento per soggiornare in tutta tranquillità. Ti posso chiedere un favore, scusa? Certo, qua ce la posso fare. Non sono molto... Ma ora ti faccio fare una cosa più ganza, eh? Ti faccio friggere i carciofi? Imparo volentieri, guarda. Bella questa cosa anche con la famiglia, insomma, riuscire a mantenere insieme alla famiglia... Sì, assolutamente. Ma vai, metti, metti. Ancora? Sì, 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 sì. I nostri carciofi per essere fritti hanno bisogno di parecchio olio. Butta, 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 non ti preoccupate. Ti piace cucinare a te? Mi piace molto, ma ho il mio marito che è misur class e quindi lascio fare i fornelli... Perfetto, vai, a posto. ...a chi ha più dimestichezza. Allora, proprio perché mi parli di Toscana, che la Toscana è bella tutta, mare, monte e campagna, adesso facciamo vedere ai nostri amici da dove arrivano questi spettacolari carciofi. L'azienda agricola è stata costituita nel 1990 da mio padre, mio zio e altri due soci. Possediamo 60 ettari nella zona di Capalbio. Coltiviamo carciofi, asparagi, meloni, cocomeri. Possediamo un campo di 4 ettari di carciofo, varietà Terum. Questo tipo di varietà di carciofo viene raccolto dalla metà di marzo fino a fine maggio, più o meno. I carciofi sono ricchi di fibre e aiutano a migliorare il metabolismo umano. Noi coltiviamo i carciofi con un sistema di sostenibilità verso l'ambiente. Mi asciugo le mani, ok. Allora, senti Franca, adesso prendiamo i carciofi belli e pronti. Mi piacciono i carciofi? Che meraviglie moltissimo. I carciofi fanno benissimo, sono ricchi di ferro, soprattutto chi ha problemi di anemia, dovrebbe mangiare tutti i giorni i carciofi, è che non ci sono tutto l'anno. No, infatti aspettiamo la stagione sempre. Stagione crudi, con il limone, semplicemente con una salsina, fatto anche con lo yogurt in crudisè, diciamo il segato di carciofi. Fritti, sono buoni ripieni, mia nonna me li faceva sempre ripieni. E oggi li facciamo fritti, una ricettina un pochino più particolare. Vedete, questo è l'impasto. Guarda Franca, questo è l'impasto che facciamo lievitare poi con calma. E qui ce l'abbiamo già lievitato. Adesso lui ora va a fare un sonnellino di circa 24 ore, 48 ore. Mi piace farlo lievitare molto così almeno si digerisce meglio. Lo togliamo di mezzo e prendiamo invece questo impasto. che è lievitato molto bene. Bello. Guarda, ti chiedo, gentilmente se mi prendi quella teglia sotto il forno. Sì. L'impasto poi ha bisogno delle pieghe. Quando ha fatto la prima lievitazione, prendiamo i lati, li porgiamo su se stesso. Vedi, fa delle pieghe. Questo serve per aiutare l'avitazione. Vedi che bolle belle ci sono. Può dire che lui ha raggiunto il massimo della sua lievitazione e quindi è pronto per essere lavorato. Stupendo. Prendiamo un po' di carta da forno. Ti faccio fare l'assistente. Grazie, è un piacere. A casa mi sa che sei abituato al tuo marito, forse ti sfruttano in cucina. Fammi quello, fammi quello. Poi chi li lava i piatti però? Lava lui o li lavi te? Lava lui, io apparecchio. Ma come bravo questo signore. Vogliamo conoscere anche lui. È abbastanza interessante. Ha molto da dire e da fare. Ecco, bene, bene. Allora prendiamo il nostro impasto, è molto morbido. Io lo faccio abbastanza soffice, così almeno, vedi, si lavora bene anche se è sofficino. Però quando facciamo un impasto più all'acqua, quindi sarà più acqua che farina, diciamo, nelle proporzioni, in certi casi è meglio perché risulta più soffice. Che meraviglia. Morbidino. Ora ti sto per dire una cosa veramente sfiziosa. Questo impasto è spettacolare, anche fritto. Ah. Va, perché i coccoli fritti sono buoni. Sono buoni. Sono buoni. Quindi, questo si può fare anche un pane, però in questo caso ho deciso di fare delle focaccine. E insomma, comunque, mi piace il discorso dei ragazzi. Io ho lavorato anche molto con i ragazzi nelle scuole. Vengono intere scolaresche. Quindi, per quanto tempo fa abbiamo avuto un'interagita da vicino Firenze, erano circa 300 allievi. Mamma mia. Come hanno fatto a gestirli? Abbiamo una gioia, abbiamo tutto uno staff fantastico, con le guide che aspettavano. Di che età? Delle superiori? Delle medie. Delle medie addirittura, mamma mia, l'età peggiore, sono per adolescenza e inquieta. E si sentono coinvolti, capito? Bravi, fin dalle medie, ma fin dalle elementari, secondo me, bisognerebbe già introdurli in queste strade. Io invece adesso introduco le nostre focaccine alla curcuma. Gli diamo 10 minuti, perché questo forno è potentissimo, quindi teniamolo d'occhio, Franca, perché due volte mi inganna. E adesso ci occupiamo invece dei carciofi fritti. Vediamo un po'. Allora, abbiamo già qui la farina di riso. Ah. Semplicemente farina di riso e basta, perché non voglio che sia una tempura o una pastella, altrimenti abbiamo già l'impasto della focaccia, no, che è ricco di farina. In questo caso lo facciamo anche senza glutine, quindi usiamo la farina di riso, olio caldo, i carciofi sono già stati puliti. Allora, l'olio sta andando, ti stavo dicendo appunto che faremo la versione vegetariana e non, è vegetariana con un po' di crescenza fresca, i carciofi fritti che appunto ne andiamo a fare e l'altro ci mettiamo anche del capocollo. Belle, sfiziose, diciamo, queste focaccine perfette per una merendina, perché no, anche per un aperitivino. Che profumo già. Eh, sono profumate, si sente il carciofo, si sente, io poi ovviamente faccio delle prove ogni tanto, le assaggiate e all'interno si sente proprio il profumo del carciofo. Si sente nell'aria, la fragranza. Allora, io li voglio far aprire, perché solo la farina? Perché con soltanto la farina loro si possono aprire e diventano ancora più croccanti. Iniziamo ad avere tutti gli ingredienti per concludere la nostra ricettina di oggi, insieme a Franca che ci ha portato un ventaglio appunto di cultura che è sempre importante. Grazie, sì. Grazie a te che sei venuta qui, siamo molto onorati e contenti di questo e porti la tua esperienza qui con noi. Grazie. È importante perché le persone poi a casa prendono appunto e dicono, ho capito che è Franca, fa questo, questo e questo, andiamo a comprare qualche libro. Allora, un pochino di sale. Massaggiare una? Dai, dai, è l'ora giusta. Ah, non so se l'avete visto, ho messo anche i gambi. I gambi sono ancora più ricchi di vitamine, non si buttano mai via, mi raccomando, non si butta mai via nulla in cucina. Con questi scarti qui faremo anche un dado poi. Quando avremo tempo insieme, agli amici da casa, gli insegneremo a fare anche il dado con tutti gli scarti. Stupendi, magnifici. Ok, adesso, guardate, adesso mi sono bruciata la lingua, vado a vedere cosa fanno. E pocaccine. Eccole, che profumo. Stupende. Che sono belle, soffici. Io ho le mani imbottite, non sento niente. Sono belle, soffici, però se sento tempo sopra hanno fatto un po' di crosticina. Scelgo questa per la decorazione e questa qui. Questa la mettiamo insieme alle altre qua. E iniziamo ad aprire le focaccine. Partiamo da un laso. Non importa aprirla tutta, guarda qui come fumica perché ovviamente è bella calda. Sì. E guarda dentro i pezzi di carciofi. Sì, sì. E poi il profumo di queste erbette anche che ci hai messo. Brava, perché non so, non l'ho detto, vedi come è lievitata bene, si vede dagli alveoli. Ho messo anche del timo perché l'associazione timo, l'abbinamento timo e il carciofo a me piace tantissimo. Prendiamo la crescenza, cucchiaio, andiamo a mettere generosamente, sono generosa in cucina, mi fiosce sempre un pochino abbondare, la crescenza, il capocollo, due fettine, qualche carciofino. L'altra focaccina la facciamo vegetariana, la voglio fare in una maniera diversa per fare vegetariana. Mi solgo una parte di sopra che mangerò io ovviamente, perché non sembra ma mangio, perché dico, mangi male, ti vediamo sempre cucinare e non mangio. No, no, mangio. Quando non mi vedete mangio. Ecco, vedi, c'è il carciofo dentro. Ah, sì, sì, spettacolare. È infatti. Bello. Quindi timo. E i nostri, come hai chiamato te, ventaglini. E questa sarà la versione vegetariana. Molto buona, molto sfiziosa. Sano, sfizioso, goloso, perché dico sempre, anche se è sano, non è detto che non deve essere sfizioso. Anzi, deve essere bello, sfizioso e gustoso. E poi un tocco di colore. Guarda, io ti dirò, ci voglio mettere alcun'altra cosa che fa parte del nostro procedimento, perché sapete, per non fare ossidare il carciofo mettiamo sempre il limone. E siccome ci sta, c'ho i limoni proprio biologici, ci mettiamo anche un pochino di limone sopra quello vegetariano, che insieme alla crescenza ci sta benissimo. Questo è il tocco di classe. Questo è il tocco di classe e il nostro piatto è pronto. Quindi, io direi, intanto, di salutare Franca Severini, che con grande gioia è venuta qui a portare su, diciamo, una ventata importante di cultura. Vieni, vieni più accanto a me, ti voglio abbracciare, grazie a cuore. Intanto noi, amici, vi lasciamo con questa sfiziosità, ce le gustiamo con calma e ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, non mancate, segnatevi tutte le ricette, le date e gli orari.